Movimento 5 Stelle è favorevole alla grande Pescara, c'è stato un referendum, il 70% dei cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore, si è detto favorevole alla riunificazione, all'unione di questi tre comuni e voi chiedete che sia rispettata la volontà popolare. Dall'11 di giugno della programmazione sono passati 90 giorni, il Presidente della Giunta avrebbe dovuto provvedere a varare una legge per la fusione dei comuni, visto lo stallo e l'inerzia siamo intervenuti noi con un nostro progetto di legge per dar seguito alla volontà popolare. Adesso cosa farete, qual è il lavoro che cercherete di portare avanti da qui alle prossime settimane? Questo progetto di legge ovviamente passerà per le commissioni, noi sul progetto abbiamo scritto che la nascita del nuovo comune sarà il primo gennaio 2016, ovviamente c'è tutto un iter procedurale, però dobbiamo rimarcare il fatto che da questa fusione deriverà un grande comune in grado di competere su tutta la Tostaria Triatica con quelli più grandi di Bari e Ancona. Questo comune ovviamente darà lustro e darà vigore allo sviluppo economico della nostra regione. Ci sono però delle resistenze alla Grande Pescara? Le resistenze ci stanno ovunque, noi diciamo che il Movimento 5 Stelle ha nel DNA la democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini che in questo caso si sono espressi in modo inequivocabile, quindi non potevamo restare con le braccia consette e non dar seguito con una proposta di legge. Grazie.